Per me, sono un'altra cosa, perché una grande parte da poter rispondere al resto. Uno che ha scritto, uno che rispetterà e uno che avrebbe. I seretani sono un'altra cosa. Non soccate, non soccate. Anche se non so, non soccate. Non soccate. Non soccate. Non soccate, non soccate. E si era parlato di manifestazioni parte, i soldi sono serviti e sono mirati da queste manifestazioni. No, forse. e come diciamo e questo come faceva molto bene e non sono più presente ma io ti so e stimo la sua partita è di una funzione quelle versioni sono sentite anche cosa le realtà sono svolte da te e serveva un giorno lei che sa? no, lo so dove ho fatto, dove ho fatto non dove ho fatto il modo di aver fatto 8 milioni a cosa sono 0.9 ora faccio la sinistra